Request Cutting Pagem è il titolo di un film horror che vedremo prossimamente, però non sveliamo né dove, né quando, né come. Però possiamo svelare da dove nasce l'idea e il perché. Allora, l'idea nasce da un progetto che è stato fatto nel 2015, che era un lungometraggio che abbiamo fatto io e Emanuele Desio. In poche parole questo lungometraggio raccontava la storia della Charlie Charlie Challenge, che era, diciamo, una sfida che era andata, diciamo, di moda su Facebook. Praticamente c'era questa penna che la dovevi mettere su un foglio e dire Charlie Charlie, are you here? E il demone si faceva presente in questo caso. Noi abbiamo, diciamo, giocato su questi video su Facebook e abbiamo fatto un lungometraggio. Il lungometraggio è stato mandato in diversi film festival, come il TOF, dove è stato premiato come miglior trailer. Dopo un po' di tempo abbiamo deciso, quindi, di fare, dopo cinque o sei mesi, abbiamo deciso di fare un prequel. Quindi quello che veniva prima di Charlie. E appunto Requiescat in Pace. Dove è ambientato e soprattutto dove è girato? Allora, Requiescat in Pace è ambientato, è stato girato in diverse parti, come Matera, nel parco della Murgia Materana. Poi abbiamo girato un po' a Vellino. Prima avevamo in mente Avella, poi abbiamo visto il Forino, vecchio borgo, e mi è piaciuto davvero assai. Allora ho deciso di mandare il cast in questo borgo. E quindi abbiamo girato a Forino per fare la scena quando eravamo a Gerusalemme. Diciamo che assomiglia molto a Matera, perché quando ci siamo stati veramente era... è stato molto bello questo borgo. E mo' dobbiamo andare, l'ultima ripresa, olemano sul Tusciano, nelle grotte di San Michele. Gli amici di casa sicuramente stanno dicendo, lui è giovanissimo. Vogliamo svelare l'età, anche perché tu sei il regista e primo attore. Sveliamo l'età e poi una domanda sorge spontanea. Il cast è giovane come te? Io ho 16 anni e... Sì, il cast è completamente giovane come me, hanno tra i 15 e i 16 anni. E uno di questi del cast, si dirò proprio io qui, Emanuele Desio. Esatto, che coinvolgiamo immediatamente. Allora, attore di un film horror. Prima domanda, quali sono le difficoltà nel recitare un film di questo genere? Beh, innanzitutto, non essendo abituato, ho avuto molte difficoltà nel modificare la voce, nell'imagining dentro la trama. Però dopo un po' che abbiamo fatto qualche ripresa, non ci sono abbastanza abituato e le cose sono andate abbastanza fluide. E quando Zapatone Mattines mi ha fatto l'idea per il film, all'inizio ho esitato. Mi ha detto, perché dovremmo continuare una storia ormai? Poi ho detto, però vorrebbe essere una cosa carina per poter continuare un lavoro fatto nel 2015. Allora ho pensato, sì dai, si può fare. Quindi abbiamo detto che c'era una situazione iniziale, ma adesso che state nel vivo delle riprese, quindi il film ormai cominciate a sentirlo tra le vostre mani, quali sono le sensazioni che si provano? È superata quello scetticismo, diciamo così, tra virgolette, iniziale? Beh, a dire il vero sì. Cioè, all'inizio ero molto scettico, infatti il film non aveva molto successo, ovviamente. Però dopo un po' di mesi è successo che ha aumentato notevolmente i visual e quindi mi ero convinto che veramente potrebbe essere una buona idea e a continuarlo non ci ho pensato due volte alla fine. Questo film, abbiamo detto che sarà proiettato, parteciperà a vari festival. Qualcuno per esempio? Alcuno per esempio lo Stigues in Spagna, dove sono stati scritti diversi film horror famosi, come Rec, di Placoplate, quindi mi è piaciuto scegliere questo posto. Tra gli altri italiani, non lo so, ci saranno molti, ma molte idee. Ovviamente lo iscriveremo di nuovo al TOF, perché il primo è stato un successo, abbiamo preso il premio miglior trailer e quindi stavolta lo vorrei iscrivere proprio come film e non come trailer. e quindi ci saranno parecchi festi. Nel frattempo, se qualcuno volesse sapere qualcosa in più, restare aggiornato anche sulla data di pubblicazione, come potrebbe fare? Beh, potrebbe andare sulla pagina Facebook della Corsenal Production, che sarebbe la casa di produzione che ci ha praticamente sponsorizzati per quasi tutto Charlie 2015 e quindi continuerà a sponsorizzarci. Per chiudere, possiamo solo citare una piccola battuta senza far capire la trama e svelarle il finale? Una tua piccola battuta del tuo ruolo? La guerra inizierà e finalmente domineremo le pedine di Dio.